Allora, rieccoci qua e questa mattina cerchiamo di completare questo esercizio su cui abbiamo giocato la settimana scorsa completando il punto 1 e portandoci anche molto vicino alla soluzione anche del punto 2 che è poi l'applicazione della ricorsione ai grafi non troppo complicata Allora, sul progetto io ho fatto solo una piccola modifica rispetto alla versione che c'era online la settimana scorsa semplicemente quello di sganciare ai vari metodi del modello il bottone del controller in modo da poterlo attivare direttamente da qua visto che adesso dovremo poter giocare col punto successivo quindi quando faccio analizza oggetti sta creando il grafo in questo momento con le stesse metodi che abbiamo già usato la scorsa settimana e mi dice semplicemente che ha creato il grafo con Todbert Totarchi sappiamo che si mette queste mezzo minuto circa per crearlo con quella che avevamo chiamato il secondo metodo non ho implementato ancora il terzo anche se so già che sarebbe più veloce e siamo arrivati qua alla fine della lettera B del punto 1 l'esercizio in realtà ci chiedeva anche, e vediamo un attimo cosa vuol dire, di selezionare scelto il numero identificativo di un oggetto e verificando che questo numero corrisponde a un oggetto realmente esistente nel database premere il pulsante componente connessa e il programma deve calcolare qual è la componente connessa del grafo che contiene questo vertice e dirmi quanto è grande questa componente connessa allora qui posso parlare di componente connessa perché il grafo è un grafo non orientato altrimenti si dovrebbe parlare di componente fortemente connessa che è tra l'altro più difficile da trovare ma in un grafo non orientato una componente connessa si trova semplicemente facendo una visita del grafo posso fare una visita in ampiezza, in profondità, come preferisco e tutti i vertici che raggiungo fanno parte della componente connessa a cui appartiene il vertice da cui sono partito nel fare la visita e viceversa perché se il grafo è non orientato se dal vertice A facendo una visita che parte da A arrivo a un vertice B sicuramente facendo una visita che parte da B troverò A con un percorso inverso perché i percorsi sono tutti bidirezionali in un grafo non orientato quindi questi punti C e D altro non sono che dire fai una visita partendo da un vertice e dimmi quanti vertici trovi quindi sono veramente pochissime linee di codice allora pochissime linee di codice che dobbiamo agganciare ovviamente al nostro controller a cui aggiungeremo l'implementazione del metodo componente connessa queste due righe sono quelle che ho aggiunto rispetto alla versione della settimana scorsa forse non avevamo scusate prendo ancora dieci secondi perché non avevamo commentato insieme ricordate che l'altra volta dopo aver implementato l'algoritmo il programma andava in eccezione e vi ho detto datemi tempo per capire perché e il perché era che il database era sbagliato nel senso che nel database nella tabella che collegava oggetti a Exhibition erano elencati alcuni ID di oggetti che poi non erano presenti in realtà nella tabella degli oggetti quindi in realtà la chiave esterna era rotta in realtà quando tu hai una chiave esterna dovrebbe sicuramente puntare un valore la cui chiave primaria è presente nel database questo non succedeva quindi questo è il motivo dell'eccezione non trovavo un vertice che era indicato che era una tabella di associazione oggetto Exhibition e non lo trovava nella tabella oggetti quindi se volete come ho fatto io sanitizzare la situazione basta che voi cancelliate tutte le relazioni che non corrispondono ad oggetti reali quindi con questa delete vi cancella la tabella Exhibition Objects tutte le righe che non corrispondono ad oggetti veri e da qua in avanti cancellando questo ovviamente il programma funziona quindi questa non è la colpa del programma ma è la colpa del database o del programma che non stava controllando bene il database mettetela come volete ok solo come commento qua dentro il DAO c'è la spiegazione dell'errore ok veniamo invece a noi al calcolo della componente connessa quindi noi dobbiamo prendere un ID dell'oggetto che l'utente inserirà qua e passarlo a un metodo nuovo del modello che calcolerà le componenti connessa quindi come prima cosa verifichiamo ad esempio stavolta partiamo dal controller tanto per cambiare acquisiamo e verifichiamo quel numero quindi io devo acquisire il numero che l'utente scrive qua nel campo ID oggetto il campo ID oggetto ovviamente è un campo di testo il cui valore è una stringa quindi dobbiamo fare il solito giro in cui recupero sotto forma di stringa l'id oggetto sotto forma di stringa che altro non è che txt object id punto get text e poi questo lo dovrò convertire in intero sapendo che non sempre è possibile perché magari l'utente non ha scritto ciò che è può essere convertito correttamente in un numero quindi dobbiamo poi avere alla fine un ID obj che sia effettivamente un intero id obj id obj e questo id obj non è altro che il parsing della stringa questo lo metto sotto try catch perché il metodo parsing nel caso in cui non ritrovi non riconosca un numero intero corretto genera un'eccezione quindi catch un'eccezione di tipo number format exception se non sbaglio si number format exception e se c'è qualcosa che non va ovviamente catturiamo l'eccezione e lo spieghiamo all'utente quindi in questo caso nella casella di testo di risultato mettiamo un bel messaggino che dica inserire un numero intero valido e abortiamo il metodo usciamo con un return dicendo non posso far nulla se invece riesco ad andare avanti vuol dire che ho un numero id obj valido che valido nel senso di numero intero poi non so ancora se sia valido come id di oggetto devo verificare che effettivamente questo numero sia un valido oggetto prima di partire a fare la ricerca e tutto quindi questo lo posso fare ad esempio chiedendo al modello is obj id valid inventiamoci un metodo del modello che mi dica se un determinato id perdon gli passo anche l'id se questo numero è valido o no se non è valido mettiamo un punto esclamativo qua davanti se il modello mi dice che questo numero non è valido non vado avanti dico all'utente guarda che non esiste nessun oggetto con questo id diciamo all'utente guarda che non esiste alcun oggetto con id pari a questo valore barra n chiudo le virgolette e poi come parametro c'è id obj punto e virgola beh ovviamente questo metodo dovremmo implementarlo ma non ci spaventa semplicemente di andare a vedere se nel vertex set o nella lista degli oggetti ce n'è almeno uno anzi ce n'è esattamente uno con questo id se tutto va bene allora potrò calcolare la dimensione della componente connessa quindi sarà la dimensione della componente connessa me la faccio dare dal modello calcola dimensione componente connessa di questo partendo da questo id obj e poi me lo dice append text format e gli dico la componente connessa che contiene il vertice per cento di a per cento di vertici a capo la compo qui non ho scritto una parola giusta a volerla pagare componente connessa che contiene il vertice a per cento di vertici quindi stampo il numero di vertici e il numero di la dimensione della componente connessa relativa questo lato controller come sempre il controller gestisce l'interazione con l'utente controlla gli errori stampa i messaggini attiva i lettici attiva i bottoni e poi il lavoro vero lo fa fare al modello il modello a cui delega due operazioni dimmi se un determinato oggetto è valido un determinato oggetto id è valido e dato l'oggetto id dimmi calcolati la componente connessa non dirmela perché non ho voglia ma dimmi solamente quanto è grande che è l'unica cosa che interessa al controller allora passiamo al model e quindi implementiamo questi metodi object id is valid significa semplicemente andare a cercare dove tra art objects se almeno uno degli elementi appartiene allora noi sappiamo no noi non sappiamo nulla noi speriamo che l'utente che clicca componente connessa qua abbia prima cliccato analizza oggetti non sarebbe intelligente cliccare componente connessa senza aver prima creato il grafo però non lo possiamo impedire l'utente cioè non è detto che is object valid venga chiamata dopo crea grafo e se venisse chiamata prima di crea grafo questa cosa qua cosa può fare? niente perché non non ha ancora letto gli oggetti che vengono letti nella crea grafo quindi questo dobbiamo fare attenzione che se per caso gli oggetti art objects è ancora null la cosa più semplice che possiamo fare è ritornare falso dicendo beh se non hai letto il grafo di sicuro questo vertice non esiste poi forse per fare qualcosa un pochino meglio dovremmo restituire un'eccezione che venga gestita dal dal controller no? in modo che il controller non stampi semplicemente il vertice non esiste ma stampi il grafo non è ancora stato caricato ma per il momento contentiamoci così abbiamo comunque intercettato un potenziale errore perché? perché io adesso sto per scandire questa lista for art object a o che fa parte della lista art objects e se questa lista fosse null ovviamente mi dà un'eccezione in questo punto quindi io la prevengo un attimo prima no? impostiamocelo come warning mentale tutte le volte che scrivo questi due punti per dire analizzo una lista mi chiedo questa lista esiste può essere vuota può non esistere proprio cioè null oppure esiste ma zero elementi oppure ha più elementi in questi tre casi il programma deve sempre fare qualcosa di giusto in tutti e tre i casi a questo punto è molto semplice nel senso che se il determinato oggetto ha un id che è uguale all'id obj che ho ricevuto come parametro vuol dire che esiste e allora posso dire al mio chiamante sì è valido questo id se non ho trovato la fine della lista dirò che non esiste c'è un modo più furbo di fare questo beh con le strutture dati attuali no no nel senso che comunque la lista dobbiamo andarcela a vedere se ci accorgessimo che questa operazione qua va fatta spesso quella di trovare un oggetto partendo conoscendo un id il suo id sapere se c'è o sapere qual è poi diciamo ottenere l'oggetto vero e proprio la soluzione sappiamo qual è è quella di fare una mappa no l'avevamo chiamata qualche settimana fa un id map un identity map una mappa che abbia come chiave un intero l'integr che corrisponde all'id object e come valore l'oggetto sono due righe di codice perché nel momento stesso in cui dov'è carichiamo gli oggetti scandiamo questa lista una volta sola e per ogni elemento della lista lo mettiamo nella mappa fine e quella mappa ci rimane a disposizione per avere dei look up rapidi terminiamolo così poi volendo diamo un'occhiata alla soluzione con la mappa che ci permette ci fa fare un pochino di lavoro in più all'inizio ma poi snellisce parecchio anziché dover fare queste funzioni semplicemente faremo una get nella mappa ok questo è il primo metodo che ci serviva nel controller il secondo è quello vero che fa il lavoro vero calcola la dimensione della componente connessa che però non è molto più complicato quindi questo metodo calcola la dimensione componente connessa che riceve un oggetto restituisce un intero cosa fa? beh prima di tutto trovo il vertice di partenza per ora non abbiamo il vertice abbiamo solamente l'id di quel vertice quindi come prima cosa trova qual è il vertice che esiste che esiste perché abbiamo appena controllato che esistesse fai una visita del grafo e conta gli elementi trovare vertice di partenza significa andare a cercare l'oggetto art object che appartiene all'elenco di tutti gli art objects e che ha quelli di quindi art objects diciamo il vertice di partenza cerchiamolo qui mi verrebbe veramente voglia di avere una mappa ma non ce l'ho e quindi scandisco la lista se a o.get id uguale id obj allora che faccio start che è il riferimento all'oggetto vertice è uguale a o quindi scandisco l'elenco di vertici andando a cercare qual è quello che è l'id e mi salvo il riferimento all'oggetto non solamente l'id e qui a questo punto posso uscire dal ciclo for perché ormai l'ho trovato se alla fine di questo ciclo start fosse ancora null è andato qualcosa storto perché io ho chiamato questo metodo con un object id che un attimo fa avevo controllato che fosse giusto quindi per sicurezza se vogliamo controlliamolo se per caso start forse null ancora e allora qualcosa è andato storto diciamo illegal spariamo un illegal argument exception vertice id obj non esistente questo non deve capitare è veramente un'eccezione questo nel senso che per come abbiamo fatto il programma non deve succedere dovremo catturare in debug durante il funzionamento normale non deve succedere questo ok se però start è diverso da null quindi arrivo qua sotto devo visitare il grafo visitare il grafo vabbè creo un oggetto un iteratore di visita sul grafo il quale mi restituirà uno dopo l'altro i singoli vertici che visita e io questi vertici li devo raccogliere in una struttura dati in una collection sia un set sia una list quello che preferite diamo un set tanto per cambiare un set di art object perché lui prima vuole trovare set art object chiamiamolo visitati new hash set metto un set perché in realtà non mi interessa l'ordine con cui vengono trovati ma semplicemente quali sono trovati a questo punto ho una visita posso creare ad esempio un depth first iterator customizzato sul grafo quindi parametrizzato con art object e default weighted edge e chiamiamolo di fv depth first visit uguale new depth first iterator che lavora sul mio grafo dis.graph questo iterator che uso per visitare il grafo partendo da start ho un attimo di blackout non mi ricordo come bisogna dirgli da quale vertice partire ah ok scusate c'è un secondo parametro che è il vertice di partenza perché altrimenti se lo sceglie lui il vertice il primo vertice del grafo quindi devo passare come secondo parametro il grafo e il vertice da cui partire quindi imposto una visita in profondità potevo fare in ampiezza non sarebbe cambiato nulla per i miei scopi attuali partendo dal vertice partente sul grafo dei miei oggetti e a questo punto consumo l'iteratore chiamo il suo metodo next tante volte finché c'è roba while dfv che è un iteratore punto as next finché c'è un elemento successivo aggiungo al mio insieme visitati punto add il prossimo elemento dfv punto next itero ogni volta che chiamo next viene consumato il prossimo vertice quindi l'iteratore va avanti di un passo e mi istituisce un vertice nuovo quando poi non ci sono più vertici as next diventa falso e io esco dal ciclo while è la stessa cosa che facciamo quando leggiamo un result set del database e a questo punto dentro visitati abbiamo l'insieme di tutti i vertici l'insieme di tutti i vertici che compongono questa componente connessa al controller interessa in realtà sapere solamente quanti sono diciamo visitati punto size e con questo dovremmo essere a posto proviamo a rilanciare il programma ovviamente devo farvi reggere il grafo ok grafo creato qui vediamo se funziona se non scrivo nulla se arrabbia se scrivo qualcosa se arrabbia se scrivo un numero 1 mi dice che la componente connessa che contiene il vertice 1 ha un vertice poverino isolato il vertice 2 ha un vertice il vertice 3 ha un vertice il vertice 4 5 non esiste alcun oggetto però poi mi ha dato un illegal argoment exception ah si certo perché ho sbagliato nel controller quando ho detto non esiste alcun oggetto dovevo fare qua un return per uscire dal metodo altrimenti quando non trovo l'oggetto lui prova comunque a calcolare la dimensione della componente connessa quindi qua ci manca un return lo sappiamo lo mettiamo tra un attimo ma nel frattempo c'è qualcosa che non va forse o è giusto così hanno tutti un vertice o stiamo sbagliando qualcosa che abbiano tutto è vero che ho messo i numeri a caso però che abbiano tutto un vertice solo forse mi stupisce allora facciamo due cose mettiamo questo return controller e io aggiungerei al test model visto che avevamo una classe test model chiediamole di provarle tutte quindi dunque devo sapere quali sono i vertici quindi mi serve un getter per gli art objects e dal test model posso art model punto get get art objects si chiama m scusate e per ogni oggetto di questa vista for art object in list int dimensione componente connessa uguale m punto calcolo dimensione passandoli a o punto gettd e lo stampiamo virgola virgola dim cc e così vediamo se è giusto che sia sempre uno se ci sono effettivamente dei vertici che hanno componenti connesse più grandi viene il dubbio se fossero tutti uno probabilmente c'è qualche errore nel nostro programma e in ogni caso scopriremo quali sono quelle che hanno componenti connesse un pochino più grandi ah ci sono ci sono tanti vertici isolati quindi oggetti che sono mai stati coesposti con nessun altro e poi ci sono dei grossi grumi di 8000 oggetti ovviamente c'è una componente connessa di 8639 che conterrà 8639 vertici quindi quel numero lo vedremo comparire 8639 volte e fanno tutti parte della stessa componente connessa poi c'è un'altra robetta c'è un 6 c'è un 2 c'è un 3 altre componentine connesse piccole quindi effettivamente c'è qualcosa in questo grafo no? ma lasciamo lavorare abbiamo capito che l'algoritmo è giusto quindi gli uno che vedevamo eravamo solo noi sfortunati a pescare casualmente dei vertici che fossero isolati lasciamo lavorare così ci serve ci servirà dopo avere un po' di vertici da provare ok questo conclude il punto 1 dell'esercizio il punto 2 allora il punto 2 è la parte ricorsiva in questo caso ci chiedeva di fare un algoritmo ricorsivo che facesse cosa il mio secondo il mio secondo caso di testa di testo permette all'utente di inserire un numero intero detto lung compreso tra 2 e la dimensione della componente connessa relativa al vertice selezionato al punto 1c cioè che vuol dire vuol dire che noi abbiamo abbiamo qua scelto un oggetto e abbiamo calcolato la componente connessa che ha 6 vertici oppure 8000 e passa vertici poi dobbiamo qua in questa casella di lunghezza scegliere un numero tra 2 e la dimensione massima della componente connessa ok quindi questa casella LUN potrà essere popolata con i valori leciti possibili solamente dopo o nel momento in cui l'utente preme sul componente connessa dopodiché cosa devo fare alla pressione del bottone cerca oggetti il programma dovrà cercare il cammino di peso massimo avendo lunghezza pari a LUN il cui vertici iniziale coincida con start con il vertici partenza che abbiamo trovato il punto 1C e che comprende esclusivamente i vertici che abbiano tutti la stessa classification classification è un altro campo di art object che dice se quello è un dipinto una statua un disegno o altre cose quindi noi siamo abbiamo trovato la componente connessa nel grafo la componente connessa non vuol dire che siano tutti collegati a tutti direttamente ma ci sono dei legami tra uno e l'altro che ci permettono in qualche modo di spostarci attraverso dei cammini di varia lunghezza da un vertici se un qualunque altro è la stessa componente connessa adesso l'utente ha scelto metti caso lungo uguale 5 allora quello che io sto cercando è una sequenza un cammino di 5 vertici il cui primo sia start il secondo sia collegato a start il terzo sia collegato al secondo il secondo sia collegato al terzo eccetera tale che questa sequenza sia fatta da vertici che abbiano tutti la stessa classification e la nota sotto ci dice e quindi hanno tutti la stessa classification del nodo di partenza cioè non è che mi complico la vita così io il nodo di partenza lo conosco già guardo quella della sua classification guardi quali sono i suoi vicini e tra i suoi vicini considero solamente quelli che sono con la stessa classificazione quindi non devo provare diverse classificazioni è una costante questa per me sostanzialmente ciò che invece varia è il cammino che sto cercando cammino di lunghezza pari all'1 quindi lui ha messo 5 come lunghezza tutti i cammini di lunghezza 1, 2, 3, 4 non mi interessano o meglio non mi interessa valutarli li devo costruire per arrivare a un cammino di lunghezza 5 quando ho il cammino di lunghezza 5 valuto il suo peso che è la somma dei pesi degli archi e ripeto per tutti i possibili cammini di lunghezza 5 i cammini di lunghezza 6 non mi interessano più non li vado a cercare quindi questo limita ovviamente la profondità della ricerca che farò ok? quindi il vertice iniziale è fisso la lunghezza dei cammini è fissa quindi la profondità della ricorsione è fissa e io devo quando arrivo al caso terminale calcolare il peso massimo del cammino il cammino il peso ricordiamo c'è il numero di compresenze quindi 5 elementi concatenati tra di loro che abbiano avuto un numero più forte di tutti di compresenze nelle varie mostre che sono presentate dagli archi del grafo al termine ricerca il programma dovrà stampare il cammino indicando gli oggetti incontrati e il peso totale del cammino trovato vabbè questo è facile una volta che l'ho trovato il cammino stamparlo è abbastanza facile ovviamente ci concentriamo sul sul punto B come facciamo a far ricercare questo cammino di peso massimo allora mentre lui continua ad andare avanti uno per uno cercando le varie componenti connesse lasciamolo andare avanti e si sta buono mettiamolo qua sotto così che è contento proviamo a ragionare sulla ricorsione quindi magari come già facevamo le altre volte facciamoci un fileetto in cui teniamo traccia delle nostre scelte ricorsione punte texti allora l'obiettivo abbiamo detto l'obiettivo è trovare un percorso un cammino di lung vertici partendo dal vertice start noto per cui abbia peso massimo e l'altra condizione è che ogni vertice del cammino deve avere la stessa com'è che si chiamava com'è che si chiamava qua no no scusate art object classification del vertice del vertice start e ovviamente che deve essere un cammino l'ho chiamato cammino ma lo ribadiamo un cammino vuol dire vertici a due a due adiacenti cioè vertice uno il start deve essere adiacente il primo il primo deve essere adiacente il secondo e così via quindi la mia soluzione è una elenco ordinato di vertici una lista che mi rappresenta il cammino che ho fatto uno dei cammini possibili che posso aver fatto importa l'ordine perché avere il cammino 1 2 3 è diverso da avere il cammino 1 3 2 ammesso che esista come cammino cioè ci siano tutti gli archi perché l'arco 1 3 più l'arco 3 2 possono avere un peso diverso da 1 2 più 2 3 quindi non ci interessa solamente la lunghezza in termini di numero di archi la lunghezza è fissa è sempre lunga ci interessa il valore degli archi che uso essendo un grafo semplice non un multigrafo conoscere i vertici mi determina unilocamente l'arco se fosse un multigrafo sarebbe più complicato perché dovrei trarre in traccia non solo dei vertici ma anche dell'arco che uso per attraversarli perché tra ogni coppia di vertici potrebbe essere più di un arco va bene quindi la mia soluzione da trovare è una lista di art object e questa lista ovviamente deve essere che il primo elemento è start poi gli elementi sono adiacenti gli elementi successivi sono adiacenti e tutti gli elementi hanno la stessa classification e ribadiamolo anche se è in in situ nel concetto di lista l'ordine è importante è rilevante cioè non potrei mettere un set ah e poi ovviamente la soluzione totale o finale è quella lista è una soluzione quindi tutte le cose sopra di lunghezza lun dovrei solo provare per qualunque soluzione parziale quando la riguva la lunghezza lun quella è una soluzione finale ok come fa a cosinare queste soluzioni quindi data una soluzione parziale scusate l'ho dato per scontato che il mio livello della ricorsione cos'è? la lunghezza della sequenza che sto creando quindi il singolo passo della ricorsione significa aggiungere un elemento alla sequenza un vertice un nuovo vertice in coda alla sequenza e come faccio ad aggiungerlo? aggiungo un vertice in coda alla sequenza che caratteristiche deve avere questo vertice? deve essere adiacente all'ultimo vertice della sequenza parziale sono arrivato fino al nodo 7 mi interessano gli adiacenti al 7 cioè da 7 dove posso andare avanti purché abbia la giusta classification giusto? quando sono su un vertice guardo tutti i suoi adiacenti purché abbiano la giusta classification e purché non sia ancora stato non faccia ancora parte della soluzione parziale altrimenti tornerai indietro creerai un ciclo non un percorso che va avanti quindi i nuovi vertici sono gli adiacenti arrivo fino all'ultimo vertice vado a vedere quali sono i suoi adiacenti che non facciano ancora parte del percorso e che abbiano una classification giusta questi sono i figli della ricorsione sono i nuovi nodi su cui andare avanti con la ricorsione queste tre condizioni adiacente classification e non ancora facente parte della soluzione perché noi vogliamo un cammino semplice si dice cioè non un cammino che si auto-interseca e che prenda il sesso vertice due volte e il caso terminale qual è? quando la soluzione ha lunghezza lunghe l'abbiamo detto e cosa devo fare? calcolare il peso se è massimo memorizzare la soluzione il peso di quel cammino e poi visto che è un calcolo di massimo sapete che nei casi terminali quasi sempre abbiamo tre scelte possibili termino questa ricorsione non vado oltre ma continuo a fare le altre termino questa ricorsione ed esco subito da tutto perché ormai ho trovato ciò che mi serviva oppure proseguo comunque andando avanti con lunghezze maggiori in questo caso siamo nel primo caso quello normale cioè sono arrivato al caso terminale devo continuare a cercare perché magari ho un max più grande di questo ma non devo aggiungere elementi non devo far crescere la sequenza di un numero maggiore di elementi ok? quindi a questo punto esco dalla ricorsione diciamo così continuo a cercare ma non proseguo in profondità quindi ho un semplice return per dirlo poi grezzamente no? in tre casi faccio il return al caso terminale quindi lui continua a cercare ma non andrà mai più sotto al caso terminale se non facesse il return invece lui continuerebbe a andare sotto e se invece voglio uscire subito avevamo quel trucchetto in cui ritornava un booleano vero o falso che permetteva di prendere risalire la ricorsione rapidissimamente direi che è tutto non ci serve abbiamo analizzato un po' tutto ciò che dobbiamo fare se ci convince passiamo al codice non è molto diverso da altri che abbiamo fatto c'è una lista che deve essere accresciuta via via questa volta il criterio è un po' diverso perché per sapere quali vertici aggiungere devo andare a interrogare il grafo va bene ce l'abbiamo il grafo si tratta solamente di l'unica tenete presente che l'unica parola che coinvolge i grafi finora è questa qui adiacente tutto il resto sono cose già viste quindi nel nostro caro modellino model che è qua andiamo in fondo che ne abbiamo abbastanza diversi lo stoppiamo fatemi fare un copia lo copiamo da qualche parte sta roba così ce l'abbiamo così se abbiamo visto di qualche vertice che abbia dimensione ecco questa qua mi piace tanto dimensione 7 così possiamo giocare non è tanto grande ok allora concentriamoci sulla ricorsione allora noi abbiamo partiamo dal caso intermedio che è il più facile una ricorsione che prende una soluzione parziale che è una lista di oggetti e la lavora quindi l'interfaccia della nostra procedura chiamiamola cerca private stammattina metto le tre riceve ovviamente una lista di art object e se vogliamo un intero livello può anche non servire perché il livello è esattamente la lunghezza della lista ma solo per diciamo così ordine mentale lo rappresento esplicitamente e questa qui la chiamo parziale come l'ho già chiamata nei casi precedenti quindi molto simile a prima qui ci mettiamo come dicevo nel caso intermedio sempre più facile partiamo dal caso intermedio e poi pensiamo al caso iniziale e al caso finale quindi caso finale lo ci pensiamo dopo ma il caso finale sarà semplice if livello uguale all'un qui ci sarà il caso terminale e qui già mi chiedo chi è l'un probabilmente lo dovrò passare anche come parametro alla funzione oppure me lo devo salvare nelle variabili del modello se no nel caso normale cosa devo fare devo valutare gli adiacenti quindi trova i vertici adiacenti all'ultimo all'ultimo della sequenza quindi facciamolo un passo alla volta l'ultimo non è altro che parziale punto get di parziale punto size meno uno domanda esiste esiste sempre questa situazione qua funziona sempre funziona se la lista contiene almeno un elemento allora questo ci fa ragionare su come avviare questa ricorsione questa ricorsione non partirà con la lista vuota ma partirà con la lista che contiene già il vertice start annotiamocelo prima di dimenticarlo caso terminale è invece il caso iniziale lista che contiene il vertice start una lista di un elemento parte da lì quello è fisso non deve essere cambiato col backtracking ne provo diversi no quello è fisso è noto l'elemento get di zero è start quello che è chiamato vertice start la ricorsione non ha neanche bisogno di saperlo se lo trova già lì dentro se se lo trova lì dentro vuol dire che questo parziale punto size vale sempre al meno uno meno uno vale zero nel caso minimo e quindi sto prendendo il primo elemento quindi non rischio di fare un get di meno uno che mi spara un'eccezione quindi questo è l'ultimo vertice vado a cercare gli adiacenti come trovo gli adiacenti allora qui devo andare a vedere la libreria jgraph t come mi permette di trovare dato un vertice i suoi adiacenti noi possiamo avere da ultimo che è il vertice no scusate questo è l'oggetto vertice non mi dice nulla posso avere i neighbor gli incoming edges outgoing edges oppure edges of eccolo qua questo è il metodo più vicino quello che ci serve edges of dato un vertice mi restituisce un set di oggetti edge mi dà gli archi che insistono su questo vertice adesso a me l'arco serve ma non mi basta perché a me serve in realtà il vertice opposto perché è il mio prossimo elemento da mettere nella lista il vertice opposto basta che io vada a interrogare l'oggetto arco che ha i due metodi get start get end o non ricordo più come si chiama e mi dà l'altro oppure visto che questa è un'operazione comune l'abbiamo già visto che probabilmente la classe graphs ha già qualche cosa che fa a casa nostra ad esempio per trovare il vertice opposto possiamo usare get opposite vertex per cui abbiamo l'arco che mi viene restituito da edges of prendo il vertice chiamo edges of mi dà gli archi per ciascun arco chiamo get opposite vertex che mi dice qual è il vertice dall'altra parte di quell'arco lì rispetto a quel vertice oppure molto più comodo neighbor list of sempre nella classe di utilità graphs che fa già tutto per noi mi restituisce una lista di vertici facendo lei dentro quello che abbiamo raccontato adesso parola cioè prende gli edge e va a vedere l'opposite e mi restituisce però se non mi interessa come in questo momento non mi interessa avere per le mani l'arco ad esempio per conoscere il peso perché io quando scendo giù in ricorsione costruisco solamente sequenze valide fregandomi del fatto che il peso sia alto o basso quindi posso scendere senza guardare il peso mi interessa solamente dato un vertice gli altri vertici quindi questo direi che è il metodo più comodo per noi in questo momento che mi restituisce già una lista di art object che sono gli adiacenti partendo dal grafo non get class grafo e dal vertice ultimo questi sono gli adiacenti tutti devo ovviamente filtrarli sulla base dei criteri che vi ho detto prima quindi non tutti gli adiacenti sono utili andiamo a analizzare uno per volta la chiamiamo prova non il for scusate allora quale proviamo? innanzitutto deve adiacente lo è perché l'abbiamo costruito così deve avere la stessa classification e deve essere assente cioè non presente non contenuto imparziale quindi if metto la condizione per prenderlo per considerarlo quindi non contenuto imparziale not parziale punto contains prova and e questa è la prima metà di ciò che devo verificare la seconda metà è che abbia la stessa classification quindi prova punto get classification deve essere uguale alla classification del primo parziale non dell'ultimo o anche dell'ultimo uguale tanto sono tutti uguali no? la classification punto get di zero punto get classification se sono vere queste due cose allora posso effettivamente fare ricorsione solite tre istruzioni parziale punto add di prova cerca parziale livello più uno lun e poi backtracking rimettiamo le cose a posto allora se non ci sono bacchi il caso centrale è fatto dobbiamo cominciare non preoccuparci del caso iniziale e del caso terminale il caso terminale è il caso in cui devo calcolare il costo e verificare quanto sfruttarlo col massimo quindi avrò magari una lista che mi salvo da qualche parte nel modello best e quindi andrò a controllare se il peso di best o scusate di parziale è maggiore del peso di best se sì me la copio quindi dirò che best uguale new array list di parziale e poi esco no parto ed esco comunque se non è maggiore se il peso non è migliore di quello che conoscevo pazienza non salvo nulla ma comunque return perché non voglio proseguire in profondità in profondità maggiore di l'uno quindi questa funzione peso data una lista mi calcola la somma dei pesi questo non è il massimo dell'efficienza perché sto chiamando peso parziale maggiore di peso best e questo peso best lo chiamerò migliaia di volte con lo stesso valore di best cioè finché non trovo qualcosa di meglio ricalcolo sempre la stessa cosa quindi se voglio essere un pochino più efficiente lo salvo di una variabile lo aggiorno solamente però la regola di base è prima facciamo funzionare le cose poi quando funzionano le rendiamo più efficienti non aggiungiamo linee di codice fin tanto che non siamo sicuri che funzioni questa funzione peso la implementiamo private in peso che non fa altro che andare a prendere nel grafo uno a uno tutti gli archi di questa sequenza quindi scandisco la sequenza e devo prendere ogni volta un vertice con quello dopo quindi qui non mi conviene usare l'iteratore perché innanzitutto devo prendere coppie di vertici non singoli vertici quindi iteriamo a mano con un indice partendo da 0 i minore di parziale punto size meno 1 minore di meno 1 non minore uguale perché se ho una sequenza da 5 mi interessa 0, 1, 2, 3 perché l'ultima volta sarà 3, 4 l'ultima coppia di vertici sarà quello di posizione 3 con quello di posizione 4 e calcolo l'arco tra i due i più più e calcolo il peso dell'arco faccio un passo alla volta così chi è che mi dice il peso dell'arco beh dovrei prendere interrogare il grafo e farmi dare l'arco tra due vertici ma andiamo a vedere se il grafo mi dà già qualcosa mi dà già un get se non sbaglio edge weight o no è un get opposite qui l'autocompletamento non mi piace andiamo a vedere qua direi che sono tutti i metodi per aggiungere un arco pesato quindi andiamo direttamente nella classe graph vedere che metodi ci dà noi conosciamo due vertici e vogliamo sapere qual è il peso dell'arco che li collega ok quindi beh c'è un get edge che dato i due vertici mi dà l'arco l'oggetto arco e poi dato l'arco posso avere get edge weight mi dà il peso dell'arco quindi possiamo passare da qua non c'è un metodo che faccia già tutto da solo quindi noi abbiamo un default weighted edge e che è l'arco che collega i due vertici quali parziale punto get di e parziale punto get di più uno cioè i due vertici consecutivi che sto analizzando nella lista quindi graph punto come si chiamava già get edge il cui vertici di partenza sia parziale punto get di quindi la prima volta get di zero cioè start e parziale punto get di più uno get di più uno esiste perché essendo i minore di size meno uno il massimo valore che può assumere i è size meno due size meno due più uno fa size meno uno che è esattamente l'ultimo elemento controlliamo sempre gli estremi e una volta che ho l'arco il peso dell'arco me lo dà graph punto get edge weight a cui passo l'arco e si arrabbia perché double perché noi sappiamo che sono interi default weight ed edge ha come peso un numero reale ma noi sappiamo che quando abbiamo creato il grafo il nostro peso era un count un count di exibition comuni quindi sarà sempre intero e basta poi a questo punto il peso più uguale peso arco e ritorna per come ho scritto questa funzione nel caso particolare in cui parziale fosse ma non lo è perché fosse fatta da un vertice solo restituisce zero fosse fatta da due vertici restituisce il peso di un arco e così via e questo dovrebbe soddisfare ciò che serve al caso terminale allora a questo punto possiamo partire con il caso iniziale la procedura pubblica che restituisca una lista di art object no è che cosa fai qua art object cammino massimo partendo da il vertice di partenza passo un intero perché il controller poverino che gli passa sto valore non può che avere il numero intero che era quello che avevamo già letto prima quindi qui cosa devo fare innanzitutto devo trovare il vertice di partenza cioè fare questo tale quale no perché passare dall'int al vertex all'art object mi serve questo codice quindi magari sarebbe bello spostarlo in una funzioncina che mi fa il throw al vertice visto che c'è già due volte non me la sento di fare copia e incolla di cinque righe mi fa troppo male allora facciamo una funzioncina private art object trova vertice int id obj che fa sta bella cosa e poi mi restituisce start chiusa graffa che poi se avessimo una mappa questo diventa un'istruzione unica allora già lo facevamo prima dicevamo qua diventa semplicemente trova vertice e quindi abbiamo semplificato anche il calcolo dimensione riconoscendo che c'era una cosa che ci serviva e qua nel cammino massimo anche troviamo l'art object start a questo punto abbiamo trovato il vertice di partenza dobbiamo inizializzare le variabili che servono per la ricorsione che sono la lista parziale che inizializzeremo metterci dentro solo il vertice start e nient'altro e il best anche il best potremmo inizializzarlo metterci dentro solo il vertice start perché il meglio che ho visto finora è una lista che contiene un cammino di lunghezza 1 che contiene solamente il vertice quindi list art object parziale uguale new array list e a questa lista aggiungiamo il vertice di partenza quindi qui non partiamo con la lista vuota ma partiamo con la lista che contiene già un elemento e per non avere un null pointer exception controlliamo mettiamo anche lo start il best scusatemi uguale perdono parziale la stessa tanto sappiamo che per come abbiamo scritto la funzione peso il peso di questa soluzione minima è zero perché non ho archi e quindi la prima volta che arrivo al caso terminale questo peso di best è zero e sicuramente best verrà rimpiazzato con la soluzione che trovo mettiamoci una stampa qua così vediamo se la ricorsione cosa si trova via via e a questo punto siamo pronti per lanciare la ricorsione cerca parziale livello che è uno non zero perché abbiamo già un elemento dentro e l'un ah l'un ci serve qua sopra e quando ho finito il meglio che ho trovato lo restituisco il chiamante che poi lo stamperà allora non ci resta che provarla e sperare che allora andiamo nel nostro test model commentiamo questa parte che non ci serve per il momento e proviamo a lanciare la ricorsione quindi cerchiamo list art object chiamiamolo best model punto cammino massimo da dove partiamo partiamo ad esempio da questo vertice qua che sappiamo che ha una componente connessa di dimensione 7 e come lunghezza vediamo 4 vediamo cosa esce ovviamente ovviamente dobbiamo pagare quei 30 secondi per caricare il grafo poi dovremo cominciare a vedere le varie soluzioni le varie soluzioni che vengono stampate qua via via che le troviamo perché lui le trova oppure qualche eccezione ecco ovviamente c'è un'eccezione model.java 197 chi di voi è null così a occhio non lo vedo andiamo in debug quando si lavora così sarebbe bene lavorare su un grafo un pochino più piccolo poi magari sul grafo più piccolo l'eccezione non te la dà perché l'errore è da un'altra parte quindi la vita è triste sì allora vediamo un po' chi è null qua in questa istruzione maledetta parziale non è nulla prova non è nulla che tra l'altro è una scultura prova non è nulla parziale scusa caro mio ma sì perché mi sono fermato la prima volta non ho detto che sia la prima volta mi viene il dubbio che non tutti gli oggetti abbiano una classification potrebbe essere che il campo classification a volte sia vuoto e allora non ci riesce eccolo qua ah non è assoluto la prima volta allora qui bisogna verificare di nuovo se è un problema col codice o con i dati bisogna aggiungere per farlo adesso non abbiamo tempo di farlo ma ve lo sistemo come abbiamo fatto l'altra volta il problema qual è? è che se io metto il breakpoint lì si ferma la prima volta che incontra quella linea e lì va tutto bene infatti non c'era niente di null gli ho detto vai avanti quando è andato avanti prima o poi hai trovato l'eccezione ma nel momento in cui trovi l'eccezione il programma termina e quindi io non riesco più a vedere i valori di queste variabili quindi bisognerebbe si può fare mettere un breakpoint dicendogli fermati quando arrivi un'eccezione a quel punto riesci a catturare l'eccezione nel momento che viene generata prima che uccida il programma e gli riesci ancora a vedere i valori delle variabili allora adesso purtroppo vi devo lasciare finisco questa partita bug e poi vi salvo il programma completo che spero che non sia molto diverso da quello definitivo grazie a tutti grazie a tutti